Donare il sangue è più semplice e veloce grazie ad Agendona, il nuovo sistema informatico per le prenotazioni a disposizione delle associazioni che è stato realizzato dal Centro Regionale Sangue, la Regione e il Servizio Sanitario della Toscana. L'innovazione che si affianca al tradizionale metodo di presentazione diretta garantisce anche un'ottimizzazione dell'organizzazione dell'accoglienza dei donatori e permettere una migliore gestione degli eventuali periodi di carenza. È per questi vantaggi che il Comune di Capannori e l'azienda Usle 2 di Lucca stanno promuovendo il nuovo sistema sul territorio, già attivo da tempo ma finora utilizzato da poco più di un quarto dei donatori. La donazione del sangue è un gesto molto importante che per il nostro territorio è un vero e proprio valore aggiunto, visto che coinvolge molti cittadini, spiega l'assessore alle politiche sociali Gabriele Bove. È proprio per migliorare l'efficienza e ottimizzare i tempi del servizio che abbiamo deciso di coinvolgere le numerose associazioni del territorio ad adottare questo nuovo sistema. Il funzionamento di Agendona è semplice, il cittadino può rivolgersi alla propria associazione anche per telefono per prenotare il giorno e l'ora nella quale intende effettuare la propria donazione. L'associazione si collegherà alla piattaforma informatica online e comunicherà al donatore l'orario in cui dovrà presentarsi per la donazione. Il nuovo sistema garantisce la certezza di prestazione e di tempi nel pieno rispetto della privacy.